delle infrastrutture e dei trasporti. Ricordo che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto e che il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante o altro deputato del medesimo gruppo ha diritto a replicare per non più di due minuti. L'onorevole Ghirra ha facoltà di illustrare l'interrogazione 5 00096 sull'effettiva continuità territoriale in termini di trasporto aereo da e per la Sardegna. Il collega la vuole illustrare? Sì, prego. Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione riguarda appunto il regime di continuità territoriale aerea della Sardegna che ultimamente chiamerei più discontinuità che continuità. Un sistema che dovrebbe essere ancora più garantito oggi visto che è entrato in vigore il principio di insularità riconosciuto dalla Costituzione. Invece negli anni la garanzia del trasporto pubblico da e per la Sardegna è sempre andata diminuendo. Registriamo una riduzione rispetto al 2013, ad esempio del 44% delle frequenze e dei posti di bene il 27%. Inoltre anche i costi sono lievitati tantissimo. Attualmente ITA e Volotea gestiscono il servizio avendo rinunciato agli uniti di servizio pubblico e questo sta comportando notevoli disagi non solo per una riduzione dei voli e l'aumento dei costi ma anche perché ad esempio sotto il periodo di Natale è praticamente impossibile riuscire a trovare posto sui voli per la Sardegna. Peraltro il nuovo bando che è stato pubblicato dalla Regione non supererà le problematiche perché ripresenta le stesse criticità di quello attualmente vigente. Quindi ci rivolgiamo a lei per chiedere se si ha conoscenza della situazione descritta in narrativa e come intende intervenire per porvi rimedio così da garantire l'immediato ripristino di un'effettiva continuità territoriale verso la Sardegna nel rispetto del diritto di quegli articoli 16 e 119 della Costituzione. Grazie. Grazie collega. Vice Ministro. Grazie Presidente. Intanto ringrazio l'interrogante a cui oltretutto va alla piena disponibilità del Governo mantenere aperto e vive il confronto per la risoluzione effettiva di questo problema e anzi desideriamo ringraziare tutti i parlamentari che sottoponendo delle questioni specifiche consentono un monitoraggio e una sorveglianza, così diciamo rispetto a un tema su cui tuttavia l'interrogante come ben sa sussiste una normativa europea di settore che ovviamente prevede la possibilità di interventi pubblici ai fini di garantire servizi su tarifazione, regolazione e su continuità che devono rispondere a dei criteri che la normativa europea medelima verifica che diversamente questo è ovvio ma la logica di mercato gli operatori non svolgerebbero. Ho ritenuto doveroso questa permessa perché in qualche maniera rinvolge anche l'interrogazione successiva dei colleghi che hanno appunto ritenuto di sollevare il tema su un'altra vicenda riguardante la Sicilia e dando lettura quindi al documento che ho ritenuto anche di diffondere prima del question time per consentirvi di leggerlo ritengo necessario evidenziare come assicurare la continuità territoriale aerea soprattutto per comare di vario derivante dalla condizione geografica di insulare a Sardegna rappresenta uno degli obiettivi vari delle strategie governative in materia di trasporto. Comprenderà che tra l'altro col Presidente Sasso la scorsa di giustizia abbiamo avuto ampio modo di approfondire tutto il Parlamento il tema perché diciamo che gli stava a cuore. Poniamo particolare attenzione a analisi possibili miglioramenti dell'offerta ai servizi di trasporto aereo DAI per la Sardegna individuando soluzioni condivide con la Regione cui ricordo sono ricondotte come lei sa benissimo e come in qualche maniera era anche richiamato le funzioni in materia di continuità territoriale e assumendo iniziative coerenti con la normativa europea in ciò accennando a quello che dicevo poc'anzi per quanto riguarda il servizio onerato il confronto con la Commissione europea è costante finalizzato a individuare anche corretto dimensionemente lo servizio offerto, l'entità delle tariffe applicate. In particolare per quelle linee in quale il mercato così come previsto la disciplina europea nel cui ambito dovevano necessariamente collocarsi iniziato il Ministro non è in condizione assicurare il diritto alla mobilità. La vigente normativa europea del settore prevede infatti la possibilità dell'intervento pubblico per garantire servizi minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità e tarifazione cui gli operatori economici non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. Su tali base intendiamo tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini così come il diritto generalizzato all'accessibilità per colmare il divario derivante a condizioni geografiche e insularità che tra l'altro come lei ricordava è stata anche riconosciuta in maniera più formale oltre che sostanziale. Concludo assicurando che siamo al lavoro per porre in essere un'azione necessaria per garantire alla Sardegna la continuità territoriale che merita anche attraverso frequenze regolari e continuative e agevolazioni tarifari. In questo senso auspichiamo come ho detto poc'anzi anche nel sostegno da parte delle parlamentari e opposizioni poter garantire un monitoraggio alla sorveglianza effettiva in ordine al rispetto di questi criteri che non aveva indicato come necessari. Grazie Vice Ministro. L'On. Ghirra ha facoltà di replicare. Sì grazie Presidente, ringrazio il Vice Ministro. Io confido davvero che ci sia un reale interessamento del Governo perché la situazione è davvero insostenibile ormai. Peraltro sappiamo benissimo che è un sistema che non si potrebbe mai reggere sul libero mercato quindi probabilmente bisognerebbe individuare delle nuove modalità di gestione del servizio lasciando magari sul libero mercato le tratte della stagione estiva che è quella che ha maggior richiamo e prevedendo di servizio pubblico per le altre mensilità in modo da consentire a tutte le persone che si devono spostare dalla Sardegna o arrivarci per motivi di salute e di lavoro prima che di turismo di poterlo fare serenamente con delle certezze sia sulla garanzia della presenza dei voli sia sulle tariffe applicate perché anche c'è davvero un divario enorme di mese in mese e soprattutto davvero per consentire ai Sardi la mobilità che è anche riconosciuta dalla normativa europea e che al momento invece non è a noi consentita. Grazie. Grazie collega Ghirra. L'onorevole Barbagallo a facoltà di illustrare l'interrogazione 5-0-0-0-9-7 sulla continuità territoriale della Sicilia e del Sud Italia anche promuovendo la sottoposizione delle tariffe aeree al cosiddetto press cap. Vuole illustrarla collega? Prego. Grazie Presidente. Dal tenore della rubrica delle interrogazioni di oggi al question time si evince in modo chiaro che una delle questioni di grande attualità su cui c'è più pressione nei confronti anche delle delegazioni parlamentari è proprio questa della continuità territoriale. Io faccio presente al Governo che la situazione è veramente insostenibile. Ieri per un biglietto Torino-Palermo o Milano-Catania nel periodo di Natale si superavano anche le 600 euro. La situazione è veramente insostenibile. Alla luce anche del nuovo disposto dell'articolo 119 della Costituzione per cui il tema dell'insularità e della continuità territoriale hanno rilievo costituzionale. Ecco, volevamo conoscere qual è l'intendimento del Governo per dare immediato ristoro alle famiglie italiane sotto questo profilo. Grazie collega. Vice Ministro Bignami, prego. Immediatamente la risposta, poi se mi mancano in qualche secondo alcune considerazioni perché è un filo più lungo rispetto a quello della collega. Il Ministro Salvini ha già avuto modo di esprimersi sull'argomento la scorsa settimana e ha seduto in questo termine alla Senato, riprendendo pertanto alcuni passaggi fondamentali di quelle comunicazioni. Assicurare la continuità territoriale anche attraverso la regolarità dei servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia, individuando soluzioni condivise con il Presidente della Regione e con gli enti locali e assumendo iniziative coerenti con la normativa europea, come ricordavo poc'anzi collega, rientra tra gli obiettivi prioritarie del MIT in materia di trasporto, con specifico riferimento alla continuità aerea, il MIT d'inteso con la Regione siciliana e con ENA che è già al lavoro per il sole e diverse criticità. Ad esempio, al vettore aereo al Bastare affidato il servizio onerato a tariffa convenzionata sui collegamenti aerei per la Lampedusa e Pantelletti dal primo dicembre scorso e fino al 30 giugno 2023. Inoltre, in corso a predisposizione del Bando di Gala per l'affidamento del servizio di collegamento aereo a partire da primo luglio 2023 per un periodo di due anni e quattro mesi. Ricordo anche il servizio onerato sull'aeroporto di Trapano per il regolamento da per Trieste, Ancona, Perugia, Brindisi, Bari e Napoli per i collegamenti da e per comiso verso la penisola. Il MIT ha già rilasciato a delegare la Regione e indire apposito conferenze di servizi per fissare il nuovo progetto in positivo. Con riferimento poi alla sottoposizione tariffaere al cosiddetto Price Cap, informo che il 25 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale numero 267 2022 per imposizione di one e di servizio pubblico sul collegamento da per l'aeroporto di Crotone con destinazione a Roma e Fiumicino a Fardatta dal 26 marzo 2023 e fino al 25 marzo 2026. Quanto invece il nuovo progetto in positivo sulla tratta da per lo scalo di Reggio Calabria verso l'aeroporto di Bologna, Turino e Venezia in relativa documentazione è stata inviata la scorsa settimana a Commissione Europea. Pertanto si è intervenuto con lo strumento degli OSP per modulare l'operativo degli operatorieri perché fosse confacente in termini di regolarità e continuità le domande di trasporto e anche per camminare le tariffe aeree attraverso affistazioni di un parescap. Tutto ciò tutela la continuità territoriale di quelle aree del nostro Paese che si trovano in una posizione periferico o remota rispetto alla quale il libero mercato non assicura un'adeguata offerta di trasporto. Anche in questo caso, rubo dieci secondi, saremo lieti all'interrogante se volesse non solo darci consigli di cui prendere la nota ma anche eventualmente aiutarci nel monitorare e svolgere la situazione. In realtà questo è stata assai conosciuta perché riteniamo che la penalizzazione sui voli per la Sardegna e per la Sicilia, per la Sicilia, perché questo è l'oggetto di interrogazione, penalizza non solo l'isola ma tutto il sistema nazionale. Grazie Vice Ministro. Allora, Barbaragallo, la facoltà di replicare. Sì, brevemente Presidente. Dando come evidente, anche con riferimento a quanto ha affermato prima da qualche collega, il tema della continuità territoriale non è il ponte sullo stretto e garantire la rimozione di tutti gli ostacoli per coloro che vivono nelle parti più lontani del Paese e garantire una vera insularità. Signor Vice Ministro, noi riconosciamo il fatto che ovviamente il Governo si è appena insediato, sono le prime settimane di lavoro. Noi non solo saremo vigili e presenti nel sollecitare eventuali proposte, però chiediamo che il tema della continuità territoriale sia veramente una priorità per il Governo, per espletare nel più breve tempo possibile le gare che riguardano le nuove tratte aeree e per individuare le tratte che consentono di abbattere il costo delle tariffe. Perché evidentemente, se i risultati sono quelli di queste settimane, certamente i collegamenti da Trapani per quelle 5-6 città del Nord Italia e da Roma-Fiumicino per Crotone, certamente non sono serviti ad abbattere il costo. Quindi delle due l'una o aumentiamo le tratte o ci inventiamo delle tratte nuove. Credo che la riflessione vera su cui si dovrebbe alimentare il confronto tra Governo e Parlamento e anche, immagino, con gli uffici del Ministero sia proprio questo aspetto, quello di alimentare le tratte o di individuarne di altre. Anche perché poi questa istruttoria, a mio giudizio, andrebbe completata proprio con un numero di passeggeri. Perché se ci sono voli che fanno 10 presenze, 30 o 50, evidentemente non c'è domanda e quindi non serve ad abbattere il costo. Quindi secondo me, concretamente, poi noi, il Presidente Deida lo sa, abbiamo proposto nello scorso ufficio di Presidenza anche un'indagine conoscitiva sulla continuità territoriale, che ovviamente non è soltanto quello verso il sud Italia e la Sicilia, ma anche verso quella, verso la Sardegna, che sta tanto a cuore al Presidente. Ma io credo che se le forze parlamentari, la Commissione e il Governo trattano questo tema come un tema veramente prioritario, potremmo nel più breve tempo possibile ottenere risultati che non sono stati mai ottenuti fino adesso. Ci contiamo molto, signor Vice-Ministro. Grazie, collega, anche per le sue parole assolutamente condivisibili. Passiamo all'interrogazione dell'onorevole Caroppo, che ha facoltà di illustrare l'interrogazione 5-0-0-0-9-8 sul riprissimo del primo volo matutino di ITA Airways sulla tratta Brindisi-Roma. Collega, ha la facoltà di illustrare. Sì, grazie, Presidente. Insieme al collega Dattis abbiamo presentato questa interrogazione perché, inspiegabilmente, Vice-Ministro, a partire dal primo dicembre 2022 ITA ha deciso di sopprimere due voli. Il volo delle 6.15, che è il primo volo che la mattina consente ai cittadini del sud della Puglia, quindi Brindisini, Leccesi, quasi due milioni di abitanti, di arrivare a Roma non solo per svolgere le rispettive attività della capitale ma anche per accedere ai voli intercontinentali o internazionali. Peraltro è stato anche cancellato il volo che arriva nella sera precedente, l'ultimo quindi delle 21.40. Un gravissimo disagio anche perché le altre compagnie su tutte Ryanair che è incentivata dalla Regione Puglia attraverso la società Aeroporti di Puglia non prevede voli su queste fasce, su questa tratta. Peraltro è inspiegabile come questo volo, cosiddetto capolinea, sia stato cancellato solo a Brindisi perché è previsto in tutti gli aeroporti d'Italia, compresi quelli che hanno un numero di passeggeri di gran lunga inferiore a Brindisi come La Mezzia, Firenze, Alghero, Genova, Trapani, Trieste, Reggio Calabria. A questo si aggiunge il fatto che ad aggravare la situazione non esistono treni che consentono di raggiungere la capitale in prima mattinata poiché il treno di Trenitalia parte alle 6.05 da Lecce alle 6.28 da Brindisi e arriva a Roma solo alle 11.55 del mattino. Per questo abbiamo ritenuto che, seppur annunciato da parte di Aeroporti di Puglia la reattivazione del 30 dicembre, riteniamo che contentini o elemosine al territorio così vasto non siano assolutamente accettabili e quindi riteniamo di chiederle, Ministro, insieme al collega Dattis, se è a conoscenza dei motivi che hanno portato ITA Airways a cancellare questo volo e soprattutto se con l'avvicinarsi delle festività natalizie è possibile immediatamente riprendere la possibilità di avere questo volo alle 6.15 con il volo precedente delle 21.40. Grazie. Vice Ministro Bignami ha facoltà di replicare. Grazie. Grazie collega Caroppo e collega Dattis. Mi prometto anche qui una rapida premessa che completa quello che dicevo prima e su cui credo sia importante soffermarsi come noto il MIT non ha possibilità di interferire sulla vicenda ITA sia come vicenda societaria che ten al MEF sia sulla tematica delle scelte gestionali delle tratte che sono evidentemente appannaggio delle politiche di traffico di ITA questo per dire che ITA è un vettore privato che evidentemente risponde a logiche di mercato su cui non è consentito, questo è chiaro, interferire con scelte di natura politica tuttavia come darò lettura tra un attimo abbiamo cercato di cogliere elementi di concretezza e quindi in premessa come dicevo evidenza che le politiche di traffico di ITA rientrano in autonomia gestionale alle compagnie e che su tale politiche il MIT non ha potere e incidenze le scelte aziendali del vettore aereo sono rimesse al Consiglio di Amministrazione cui parteceva il rappresentante del MEF che nell'ambito del potere di azionista può contribuire alla modulazione delle politiche commerciali sulla determinazione di tali politiche richiama il regolamento europeo 18-2008 il quale stabilisce che nell'ambito del processo di liberalizzazione del trasporto aereo i vettori titolari licenze di trasporto aereo rilasciato a uno Stato membro dell'Unione Europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare e difisare le tariferie se per il trasporto passeggerico e merci in tale contesto è evidente che l'opportunità di istituire o modificare i collegamenti aerei all'interno del territorio è lasciata la logica imprenditoriale di mercato che si inquadra nella dimensione concorrenziale che come tale non ci consente ripeto intervenire sulle scelte operate dall'impresa intervenendo questo previsto quanto previsto sono in caso di rotte sottoposte a un servizio pubblico di cui parlavamo appunto prima tuttavia risulta un'interlocuzione tra Ita e Aeroporti di Puglia mi permetto collega di sottolineare questi aspetti affinché nel rispetto all'autonomia delle compagnie che come qualsiasi altro vettore privato risponde a principi logiche di imprenditorialità venga individuata una soluzione che possa in qualche maniera corrispondere a quanto auspicato dagli onorevoli interroganti che per noi rappresenta un punto importante su cui dare riscontri effettivi fermo restando quello che ho detto prima in ordine alla indipendenza vicenda dal MIT grazie il collega Caroppo può replicare sì comprendo quelle che sono i confini all'interno del quale il ministero si muove ritengo allo stesso tempo che vada in questo caso per la situazione di davvero di lontananza territoriale di perifericità del territorio immaginata qualche soluzione che possa e quindi chiedo magari non è una nuova interrogazione ma un auspicio di avviare al più presto di intesa con Aeroporti di Puglia e con i vettori presenti sul territorio un tavolo che consentendo ovviamente rispettando le rispettive prerogative consenta anche di tutelare però le prerogative diritti dei cittadini del sud della Puglia grazie dichiaro concluso svolgimento dell'interrogazione risposta immediata grazie viceministro grazie colleghi grazie a tutti grazie a tutti